Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui giocherò a Dustawl Castle, un giochino molto bello che ho fatto. Allora, sinceramente, l'inizio non capisco perché, ma fanno questo tipo di giochi, avete capito, le pubblicità infinite. E noi invece, è solo una prova, ecco. E lo spieghiamo già a me. Ok, non è male, mi ha consigliato bene. 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 Guarda... Oh, guarda che trovo! Sai che... ...di danno ammazzata da quelli? Ora, con due... ...due in piedi... ...un giro in piedi... ...mica male... ...al castello... ...almesso mi sono salvato alcuni dei ...elementi della tua esercitura ...so i due d'un esempio ...li abbiamo fatto più chiaro questo... ...e abbiamo fatto più chiaro... ...e abbiamo fatto più chiaro... ...i abbiamo fatto più... ...costruiamola! Sì. a 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 allora immagino che vada al cuoco tu hai già finito ok ok vorrei un po' tanto vestire un cavaliere con la tunica da da cuoco ma dopo perdiamo tutto e non so cosa si succede se perdiamo battaglia no bisogna no raga sono più potenti di noi eh cos'è qua no 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 vabbè 12 euro per sto gioco anche ok dai ora non mi preoccupi se tu vabbè 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 da riuscire che vabbè 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 però i tank non sono tank cioè hanno partito i maghi vabbè 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 battaglia tristina che vabbè quanti faranno anche dei boss signori nostri euro guarda ok raga vabbè come ti so volete di leggere dice uuu un'armatura ora Sì, ti metto questo, sì. Perfetto. Vorrei... Vorrei di fare l'ultima... L'ultima battaglia. Era anche 200. Avete battaglia di acqua? Sì, no! Dai che mi porta fortuna questa cassa. Ah, perché... No! Raga, non so se l'avete vista. Non so se l'avete vista. No, ragazzi! C'è una chat! C'è una chat tra cattive e buone! Infatti, Olivia, forse... Salvami prima di stasera. Non riesco a dormire in questo luogo. Buona fortuna, anche se non la troverai a nulla. Ci servirà a nulla, perché non hai alcuna speranza. Ok. Non mi serve a destra di coppia. Quindi... Cos'è? Far indossare l'equipaggiamento e migliorare... Migliore... Ai residenti. Perfetto. Andiamo in battaglia. Ah, no! Aspetta che ho trovato questa roba... Ah, no! Vabbè, questo... Quando faceva questo gli danni... Eh, però è d'arsere. Sì, raga, d'arsere. Sì, raga, d'arsere. Non mi sa più di arciere questo. Cosa è? Tesori... Uh, apri! Uh, raga! Un oggetto raro? Ok, ok, non è male. Andiamo a vedere... No, no, aspetta. No, requisiti quanti ne ha... Beh, vado subito a potenziarla. Però immagino che i requisiti siano quelli e... Niente, ci vediamo quando ha finito. Mmm... Tutututututu... Ah, no, raga, tanto vale che toglie. Perché... Ah... Perfetto. Fatto. No, raga, sei requisito. Eh, però mi bevo il migliore. No, aspetta. Eh... No, porca... Mi ce l'ho detto. Un regalo. Un regalo. No. Un regalo. 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 Ok. Ok. Ecco qua. Ah, non bisogna far. Ah, a livello 7, raga, dai. Andiamo comunque, cioè, sono abbastanza forte. E' abbastanza forte Massimo nel prossimo livello Truppatore Ma che è un boss E' un boss No, 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 non ce l'ha ancora un bel Non è mai mai che gli spritano Vediamo quanto è più potente Andiamo al castello, dai, dai, dai Cos'è? Sto premendo sul te Giro, ok, dai, raga L'ultima fortunata, dai, 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 dai Quattro mila, mamma mia Questo qua è forte Vediamo, allora Arco, torta, miglia E qua invece Ah no, arricchiti, senti Sì, molto più Questa è invece No, no, questo qua si rompe le mani E niente ragazzi Vi vediamo nel prossimo video Ciao 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 Grazie.